Ci troviamo oggi davanti al Conad di Montecchio in via Giacometti, dato che nel weekend scorso, nella notte tra sabato e domenica, c'è stato un furto proprio all'interno del centro distributivo, dal quale hanno sottratto una cifra che si aggirerebbe sugli 8.000 euro. Gli autori della rapina hanno studiato bene come agire, visto che sono entrati in azione ad un orario ideale per non essere visti. L'orologio della porta, che è stata forzata, si è bloccato sulle 23.33, facendo presagire che i malviventi abbiano agito proprio in quel frangente. Un momento in cui tutti gli esercizi del centro commerciale sono chiusi, compreso uno dei bar a fianco, che apre solamente dalla mezzanotte in poi. In quegli istanti i ladri hanno forzato prima la porta automatica e poi, una volta entrati, si sono diretti verso le 18 cassette che contenevano l'incasso di giornata. Circa 8.000 euro in contanti che in pochi minuti sono stati portati via dai malfattori, nonostante l'allarme avesse suonato e attirato l'attenzione della sorveglianza. Sul posto è poi intervenuta la squadra mobile dei carabinieri di Pesaro, che per il momento però dispone solamente di alcune foto della rapina, visto che all'esterno del centro commerciale non è presente alcuna telecamera che abbia potuto riprendere il misfatto. Ora la palla è in possesso delle forze dell'ordine che, in base ai dati e alle informazioni che dispongono, cercheranno di risalire agli autori del colpo.